La legge e la giustizia dicono in modo assolutamente inequivocabile che il governo che deve risarcire e poi si potrà avvalere su finteccano e il resto può fare quello che vuole. Però è evidente che noi in questo momento non ci possiamo fidare. E siccome siamo contro l'immobilismo in cui ci ha ridotto il governo Renzi nell'ultimo periodo, dal 14 agosto da quando ha violato una firma su un protocollo messo, è chiaro che noi siccome abbiamo sempre detto che non stiamo con le mani in mano e siamo pronti anche ad assumerci responsabilità anche oltre rispetto a quelle che ci sono dovute, ci siamo sforzati in questo periodo in cui abbiamo capito che la nomina del commissario era ineluttabile in attesa ci auguriamo che il nostro ricorso poi venga accolto, abbiamo anche predisposto delle integrazioni a quel piano. Le integrazioni sono anche queste sulla bonifica ma poi soprattutto la parte che a me più interessa è quella di una sostenibilità anche economica di auto in autonomia cittadina su cui fondare il rilancio di Bagnoli. Quindi non è con questo vogliamo dire governo tu hai il diritto di sfilarti. Il governo ha per una triplice ragione di motivi il dovere di intervenire. Primo perché è un sito di interesse nazionale, secondo perché c'è un'ordinanza del sindaco che nel suo contenuto è stata confermata, e terzo c'è una sentenza del Consiglio di Stato. Quando non si rispettano provvedimenti di questo tipo si commette un illecito. C'è una partita su Bagnoli che si sta sempre di più facendo difficile per chi ha voluto avere atteggiamenti di protervia istituzionale, perché si continua a eludere il nodo principale che bisogna bonificare, bisogna risarcire, bisogna intervenire. Siccome non lo stanno facendo, anche qui sentiamo girare sempre le stesse cose, sentiamo anche le parole che girano attribuite al commissario, che ci sarebbero i soldi, ma sono sempre le stesse. Cioè alla fine questi girano sul nulla. Quindi la proposta di Episcopo, che è la nostra, che l'ha portata in assemblea come ci eravamo impegnati a fare, è cominciare a discutere con la città, con tutta quella parte di città che si sta mostrando sempre più sensibile, per andare avanti e quindi non fermarci. Ecco, però diciamo bonifiche e riqualificazione e trasformazione del sito, si parla di cifre grosse, solo bonifiche, una stima al ribasso, si parla di 150 milioni. Vediamo, vediamo, noi vorremmo cominciare a partire. Cioè la nostra idea è che ci siamo stancati e che vogliamo partire. Quindi vogliamo dare dei segnali per incominciare a smuovere e a sbloccare Bagnoli. Però la sblocchiamo come diciamo noi. Oggi è stata una fruttuosa giornata in Consiglio Comunale, perché abbiamo avuto un dibattito serrato sulla sicurezza. Secondo me è importante, perché insomma il Consiglio Comunale di Napoli, maggioranza e opposizione che discutono di sicurezza, intervento dell'amministrazione con il vice sindaco e il sindaco. Quindi io sono soddisfatto di questo dibattito, delle cose che abbiamo detto, dei segnali, delle puntualizzazioni. Poi si è entrato nel vivo in un dibattito delicato, molto sentito in città, che è quello dello Stato San Paolo. Abbiamo ascoltato una relazione molto puntuale e precisa dell'assessore Borriello. Adesso credo che sono utili questi giorni che ci separano la settimana prossima, perché ci sono delle posizioni diverse. Noi avevamo trovato un punto di equilibrio, che era frutto anche di un lavoro importante che si sta facendo col Coni Servizi, col Coni, con la stessa società Calcio Napoli. È emerso ai margini di questo dibattito anche odierno una volontà trasversale di gruppi dell'opposizione, invece di far pesare particolarmente su chi in questo momento ha in gestione lo Stato e il canone. Noi riteniamo che la nostra posizione invece sia una posizione di equilibrio. Andiamo a ragionare e andiamo, come spero, ad approvare questa Convenzione Ponte. Perché il nostro impegno, l'ho detto anche in questi giorni, al di là della dialettica forte, è quello di raggiungere un accordo. Un accordo nell'interesse della città, quindi nell'interesse dello stadio, che è un bene comune, nell'interesse di chi lo vuole gestire, come la società Calcio Napoli e dei tifusi. Poi si passa all'analisi dettagliata e puntuale del piano, presentato dal Presidente Laurentiis, il progetto che ha una sua serietà. Dobbiamo andare a vedere se il piano di fattibilità economica è in grado di sostenere quel progetto, e qui ne dobbiamo parlare a lungo. E sicuramente ci sono delle cose importanti, tecniche e concrete, sulle quali dobbiamo intervenire. Quindi il processo dovrebbe essere questo. Mi auguro che si approvi e che non ci siano tentativi, secondo noi, ingiusti. Ecco, in quel caso nei confronti della società da parte di altri consiglieri e nell'ambito di questo dibattito, si possa approvare la Convenzione Ponte e noi poi faremo una delibera di giunta nella quale entreremo nel merito del piano presentato dal Presidente Laurentiis. Quindi stiamo andando avanti. Oggi, secondo me, abbiamo fatto qualche passo in avanti.